Francesco Modesto, è finita in parità questa sfida con l'Arzignano a rete inviolate, comunque soddisfatto, si aspettava qualcosa in più? Abbiamo fatto una gara, il primo tempo secondo me, bene, siamo mancati magari negli ultimi metri, nel secondo tempo c'era da soffrire perché si giocava molto sulle seconde palle, abbiamo perso qualche duele di troppo, sui calci piazzati abbiamo sofferto, il punto va bene perché poi la gara ai punti forse qualcosina meritavano loro, però siamo stati bravi a guadagnarci questo punto che per la classifica fa bene, anche soffrire in questo modo comunque ti rende ancora più forte perché la squadra si deve abituare anche a queste partite. Dopo 19 giornate, perché si è chiuso con l'Arzignano il giro di andata, 30 punti conquistati, quando è partito questo progetto il mister che cosa aveva scritto, se ha fatto le sue tabelle, le sue tabelline? Non faccio mai tabelle, il percorso che poi si vede che tipo di percorso fai, proprio oggi con lo staff parlavamo proprio di questo, alla fine abbiamo fatto tra partite e allenamenti 165 sedute, i ragazzi comunque nel tempo sono sempre migliorati, hanno fatto delle buone partite, i punti comunque un buon premio, però il campionato non finisce oggi perché poi dopo c'è un giro di ritorno che è sempre difficile da affrontare perché tutte le squadre poi avranno bisogno di punti. Appunto adesso voi avete una settimana di sosta, di vacanza per poi ripartire e si ripartirà a gennaio con il giornale di ritorno, l'obiettivo? Quello di rimanere in categoria, valorizzare i giovani, insomma quello del quale si parlava quest'estate? L'obiettivo è sempre quello perché anche oggi ha esordito Regonesi che è un 2004, quindi pian piano cominciano a venire altri giocatori, a farsi vedere, quindi la speranza è sempre quello, è quello che il prodotto Atalanta faccia bene in questo campionato per poi dopo aspirare a qualcosa di importante. Colgo l'occasione comunque di fare gli auguri di buon Natale, buone feste a tutti i tifosi atalantini, da parte mia, dello staff e del direttore.